Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia, bentornati alla nostra serie dedicata alla Rote Armé Frazione, alla RAF, alle Brigate Rosse Tedesche, così ci capiamo un po' più facilmente. Abbiamo raccontato nelle prime due puntate che trovate in descrizione di come questo gruppo terroristico sia nato, di come abbia riunito persone provenienti da ambienti diversi, che si sono messe insieme, talvolta anche con progetti un po' diversificati, per iniziare questo movimento eversivo in Germania. Abbiamo raccontato di come questo gruppo sia cresciuto, di come sia passato dagli attacchi contro le banche, dalle rapine, al maggio del 1972, un maggio dinamitardo, con attacchi contro giudici, poliziotti, esercito americano. E abbiamo raccontato di come questo periodo delle bombe abbia portato una risposta da parte della polizia tedesca, così pesante da riuscire addirittura a mettere in galera buona parte dei dirigenti della stessa RAF. Bene, in quest'ultima puntata ci concentreremo su due aspetti. Da una parte proprio sui processi ai danni di questi dirigenti, dei principali esponenti della RAF, e di come questi processi vennero condotti, perché come vedremo saranno molto importanti dal punto di vista politico. Dall'altra parte ci concentreremo invece sulla seconda e sulla terza generazione della RAF, che ogni tanto ci si dimentica, ma trascinò le sue attività addirittura fino agli anni 60, ben dopo la caduta del muro di Berlino e la riunificazione delle due Germanie. Quindi, ringraziando ancora una volta tantissimo Stefano Bionzi, che ha procurato tutto il materiale per questa pillola, che ringrazio veramente tantissimo. Vi dico, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare. Come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, nel 1972 buona parte della classe dirigente della RAF era stata catturata, in realtà in pochissimo tempo, in parte grazie a delle soffiate, grazie a dei pentiti, addirittura in parte grazie ad operazioni di polizia. Questa cattura, che aveva praticamente decapitato l'organizzazione, permetterà alla Germania per circa due anni, tra 72 e 74, di non subire particolari attacchi da parte di quello che rimaneva dell'organizzazione stessa. A permettere però un nuovo afflusso di reclute, secondo molti, fu il trattamento a cui vennero sottoposti i prigionieri. Come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, vennero isolati, tenuti lontano da tutti, in condizioni che erano, potremmo dire, quasi al limite della legalità, condizioni che vennero denunciate anche da associazioni internazionali come Amnesty International, e che scatenarono proteste di senso in Germania, e in questo modo spinsero alcuni a radicalizzarsi e ad avvicinarsi a quello che rimaneva della RAF. La goccia che farà poi traboccare il vaso da questo punto di vista sarà la morte di uno dei dirigenti, Holger Mainz, il quale morirà in seguito a uno sciopero della fame e morirà peraltro in carcere, nonostante molti avessero chiesto ai giudici di permettere la sua temporanea scarcerazione e il suo spostamento in un ospedale, cosa che non era avvenuta e Holger Mainz era morto in carcere, pesando, pensate, solo più 39 kg. Ad ogni modo questa fu la goccia appunto che fece traboccare il vaso e che spinse una seconda generazione della RAF a iniziare una campagna di sequestri e di attacchi nel tentativo appunto di imporre allo Stato il rilascio dei suoi dirigenti. Il primo tentativo di rapimento avviene il 10 novembre 1974, ai danni di un giudice a Berlino che viene raggiunto da un piccolo commando, ne nasce una collutazione, partono dei colpi di pistola e il giudice viene freddato da tre di questi. La cosa ovviamente fa grande impressione, un po' perché si stava pensando che la RAF fosse ormai sconfitta, un po' perché dal carcere, dove i membri della RAF vengono a sapere quello che è avvenuto, giunge il plauso per l'avvenimento, dicendo sostanzialmente che è giusto eliminare e uccidere i giudici che sono servi del potere. Il secondo tentativo viene fatto nel febbraio del 1975, ed è un tentativo che invece in questo caso va a buon fine per la RAF. L'obiettivo del tentativo di rapimento, anzi del rapimento perché in effetti va a buon fine, è Peter Lorenz, all'epoca candidato sindaco di Berlino per la CDU, il quale viene raggiunto in casa, viene rapito da un commando della RAF e tenuto appunto in prigionia per alcuni giorni. Le richieste del commando sono molto semplici. Il rilascio di alcuni dei prigionieri, tra cui non il gruppo dirigente, diciamo dei medi livelli, richieste che vengono avanzate allo Stato tedesco, che, valutato anche il fatto che la maggior parte dei prigionieri erano imputati di reati minori, nessuno di loro era imputato di omicidio, nessuno di loro era imputato di tentata strage o di attentati dinamitardi, decide alla fine di trattare con questi rapitori. E in cambio appunto del rilascio di Peter Lorenz, che sarà in effetti rilasciato all'inizio di marzo, concederanno la libertà a questi prigionieri. Questa decisione sarà ovviamente ampiamente contestata, perché secondo alcuni spingerà la RAF a compiere nuovi rapimenti sapendo che lo Stato in qualche modo avrebbe trattato. Peraltro, in seguito anche a forti discussioni in ambito politico, il governo deciderà che da quel momento in poi non avrebbe più trattato con i rapitori e questo in effetti porterà a uno squilibrio nelle decisioni che, come vedremo, avrà ripercussioni anche negli eventi successivi. Il 25 aprile ad essere attaccata è l'ambasciata tedesca in Svezia. L'attacco anche questa volta è rapidissimo, è portato con metodi militari. Il commando entra nell'ambasciata, raccoglie i prigionieri, li porta al piano superiore e respinge un primo tentativo da parte della polizia svedese di liberarli. La polizia riesce a penetrare al piano terra, lo occupa, ma poi i rapitori giustiziano una delle guardie di sicurezza e minacciano di eliminare altri ostaggi qualora la polizia non si fosse ritirata. Il governo tedesco riceve ovviamente anche in questo caso una richiesta di liberare alcuni dei prigionieri, ma questa volta la richiesta è decisamente su un altro livello, perché tra i prigionieri di cui si chiede la liberazione c'erano anche lo stesso Andreas Bader, Ulrike Meinov, nonché la Hensling, la compagna di Bader, insomma tanti dirigenti di alto livello. E la risposta del governo tedesco questa volta è assolutamente negativa. La risposta in attesa di un eventuale intervento da parte delle forze svedesi è l'eliminazione di un altro stagio. Ma l'intervento svedese alla fine non è necessario, perché nel tentativo di posizionare delle bombe nell'edificio, probabilmente per farlo saltare, il commando in realtà si fa saltare sostanzialmente da soli. Una delle bombe probabilmente per errore esplode, uccide due dei membri della RAF, ferisce gli altri e permette ai poliziotti svedesi di intervenire e di salvare se non altro gli ostaggi. Il 21 maggio 1975, quindi circa un mese dopo, intanto si aprì finalmente il processo e a finire sul banco degli imputati furono appunto i dirigenti che il commando in Svezia aveva cercato di liberare. Fin dall'inizio fu un processo difficilissimo, perché da una parte i membri della RAF e i loro avvocati cercarono in tutti i modi di rallentare le operazioni, di trasformare la loro attività in una pura attività politica e di far quindi valere le loro ragioni in questo senso. Dall'altra parte la Corte, in questo appoggiata dalla politica, cercò in tutti i modi invece di limitare le loro possibilità di difesa e di accelerare l'esito del processo. Ci furono vari episodi in questo senso. Ad esempio, all'inizio venne emanata una legge apposita per impedire ad alcuni avvocati di difendere i membri della RAF, ovviamente per cercare di limitare l'accesso a quegli avvocati, come dire, troppo favorevoli alla RAF stesso, che già in passato li avevano difesi. Per questo vennero loro assegnati, peraltro, anche degli avvocati d'ufficio che però gli stessi imputati disconobbero dicendo che non erano in realtà loro avvocati e che non potevano parlare per loro. Questo ovviamente portò ad un rallentamento perché dovettero essere scelti dei nuovi avvocati difensori i quali a loro volta chiederanno di avere accesso agli atti e di avere tempo per studiarli. Una concessione che non verrà loro fatta e che porterà ad altre polemiche. A questo punto il processo si iniziò a concentrare invece sulle condizioni fisiche degli imputati. Condizioni fisiche che gli avvocati cercarono di far valere per rallentare il processo e per chiedere che gli imputati potessero avere delle migliori condizioni di prigionia o che magari fossero addirittura trasferiti in un ospedale. Anche in questo caso però il giudice, che sarà aggredito da alcuni degli imputati che lo chiameranno, non vi posso dire l'insulto, ma potete immaginarlo inizia per STR, fascista. E' curioso che io possa dire fascista e non... Vabbè, non importa, questo è un pensiero mio che rimane lì. Ad ogni modo sarà aggredito ovviamente in questo modo, il che porterà ad allontanamenti dall'aula e quant'altro, ma in realtà anche in questo caso verrà fatta praticamente una legge apposita perché in effetti alla fine dei medici indipendenti constateranno che le condizioni degli imputati non sono tali da permettere loro di rimanere in aula per tutto il tempo del processo. Questo ovviamente avrebbe comportato un rallentamento del processo stesso perché non si poteva fare in loro assenza. Venne emanata una legge che permetteva di portare avanti un processo in assenza degli imputati qualora le condizioni mediche fossero stati da essi stessi causati. E dato che le loro condizioni erano causate dal loro sciopero della fame la cosa permetterà al processo di andare avanti. Inutile dire che ovviamente questa situazione molto complessa trasformerà, come vi dicevo prima, il processo in qualcosa di fortemente politicizzato e ad un certo punto, fuori da lì, nel resto della Germania la gente non si preoccupava più di quali fossero le prove o meno a carico dei membri della RAF ma si preoccupava semplicemente di quale fosse l'appartenenza politica del giudice piuttosto che degli avvocati. Dopo quasi un anno di processo, il 4 maggio del 1976, avvenne un nuovo colpo di scena. Gli avvocati degli imputati chiesero di poter chiamare a giudizio tutta una serie di alti esponenti politici americani. Il loro scopo era di chiedere loro se gli americani stessero compiendo dei genocidi in Vietnam e se una parte delle truppe destinate al Vietnam e degli aerei fosse partito anche dalla Germania sostanzialmente per trasformare quello che, ripeto, erano stati attacchi dinamitardi in un'azione politica volta alla difesa di un popolo aggredito. Il tentativo di difendersi in questo modo e anche la volontà di una parte dei membri della RAF di distaccarsi da alcuni atti dinamitardi, come ad esempio quello ai danni dell'editore Axel Springer porteranno ad una frattura all'interno degli stessi imputati con, da una parte, Gudrun Heinzling e Andreas Bader che rifiuteranno l'accusa di attacco ai danni dell'editore dall'altra, invece, Ulrike Meinov che confermerà la sua partecipazione all'attacco che, appunto, portando ad una separazione delle difese e anche una serie di insulti da una parte e dall'altra. Il 9 maggio, però, le cose cambiarono ancora. Nella mattina del 9 maggio, infatti, i poliziotti e le guardie carcerarie entrate nella cella di Ulrike Meinov la troveranno morta impiccata. Questa morte lascerà tantissimi dubbi. Gli esperti, dopo aver inizialmente valutato il tutto come un normalissimo suicidio fatto utilizzando delle corde che la stessa si era procurata utilizzando le lenzuola del letto si resero però conto che quelle corde erano state disposte in un modo non del tutto giustificabile semplicemente con il materiale presente nella cella. Innanzitutto erano state incastrate nella grata della finestra da cui, ovviamente, la donna si era appesa in un modo che sembrava impossibile senza utilizzare degli strumenti strumenti che non erano presenti. Inoltre, alcuni esperti fecero presente che il peso della Meinov non consentiva di impiccarsi utilizzando solamente delle lenzuola che si sarebbero strappate e la donna si sarebbe dovuta salvare. Insomma, il dubbio di molti era che in realtà fosse non un vero suicidio ma che qualcuno avesse deciso di eliminarla e avesse fatto passare tutto come un suicidio. Ad oggi, però, non ci sono prove in tal senso sono due teorie molto diverse la versione più accettata è ancora quella del suicidio ma diciamo che in questo caso di dubbi oggettivamente a cercare tra tante fonti ce ne sono molti. Dopo la morte della Meinov, inutile dire che le proteste tornarono ad aumentare e gli stessi imputati, nonostante, ripeto, si fossero dissociati da lei pochi giorni prima cavalcarono la sua morte accusando lo Stato di aver fatto appunto un omicidio di Stato. L'anno successivo continuerà tra le polemiche da una parte e dall'altra. Da una parte, gli accusati diranno di essere costantemente controllati accuseranno la Corte di aver fatto piazzare delle microspie nei locali in cui si tenevano i colloqui tra loro e gli avvocati accuseranno la Corte di essere apertamente di parte e questo, peraltro, porterà anche alla sostituzione del giudice che venne scoperto aver rivelato una parte di ciò che avveniva appunto durante le carte del processo e per questo venne sostituito. Dall'altra parte, però, durante il processo ci furono anche delle confessioni eccellenti con alcuni degli esponenti di medio livello della RAF che ovviamente erano stati catturati che ammisero tutto quello che era stato compiuto svelarono parti del retroscena svelarono come i piani della RAF venivano preparati sostanzialmente mettendo in piedi un castello accusatorio che si rivelò essere impossibile da abbattere per gli avvocati difensori. Alla fine, il 28 aprile del 1977 l'intero gruppo dirigente della RAF sarà condannato all'ergastolo accusati di molteplici omicidi, di molteplici tentati omicidi e per questo condannati all'ergastolo. Questo, inutile dire, non fermò coloro che invece si trovavano ancora all'esterno che ancora per tentare di liberarli diedero vita ad una seconda stagione di rapimenti. Il 30 luglio del 77, in un tentato rapimento morirà un banchiere di cognome Ponto il quale verrà raggiunto in casa da tre uomini che entreranno perché uno dei tre era riconosciuto dalla moglie e puntandogli una pistola cercheranno di portarlo via. Ne nascerà una collutazione e Ponto verrà freddato sul posto. Il momento peggiore per lo stato tedesco però doveva ancora arrivare sarà ricordato come l'ottobre tedesco. Nel settembre del 1977 il primo ad essere colpito fu un esponente politico della CDU, del Partito Conservatore al Potere cioè Hans Martin Schleyer che era anche un dirigente d'azienda ma soprattutto era stato un membro delle SS non un membro di alto grado, per carità neanche un membro operativo perché durante l'addestramento si era procurato una frattura e questo aveva impedito di mandarlo sul campo ma aveva fatto parte della macchina amministrativa nazista nella Praga occupata ed era accusato di aver gestito direttamente alcuni campi di lavoro. Schleyer che ovviamente per il suo passato era già al centro di tantissime polemiche politiche e vi erano state manifestazioni contro la sua nomina insomma era già una persona molto molto chiacchierata e questo forse in Italia non succedeva più di tanto perché diciamolo che noi siamo sempre stati molto più aperti verso ex esponenti del partito fascista che rientravano in politica ma questo è un pensiero mio bene Schleyer sarà rapito all'inizio di settembre del 1977 con un metodo che in qualche modo ricorda quello che sarà poi utilizzato dalle Brigate Rosse nel rapimento di Aldomoro Brigate Rosse che peraltro si pensa vi sono alcune testimonianze riguardo che fossero in contatto con la RAF e che quantomeno si fossero ispirati ad alcuni dei metodi del movimento tedesco il 5 settembre del 1977 la macchina che stava procedendo non lontano da Colonia la macchina su cui viaggiava Schlein si trovò improvvisamente bloccata davanti a lei infatti una macchina da Mercedes era stata messa di traverso con una carrozzina e una madre che sembrava cercare di aiutare un bambino che forse era appena stato colpito l'autista di Schlein che si trovò improvvisamente davanti alla macchina fu costretto a frenare di colpo e la macchina della polizia la scorta dietro di lui colpì violentemente la macchina a questo punto cinque membri della RAF intervennero armi in pugno eliminarono i tre membri della scorta e l'autista e rapirono il politico portandolo via con sé le richieste che giungono al governo molto rapidamente insieme a una Polaroid del prigioniero sono ovviamente semplici la liberazione di alcuni dei prigionieri una somma di denaro per ognuno di loro e il permesso di lasciare la Germania fin dall'inizio il paese si spacca tra chi vuole seguire la linea dura e chi invece dice che a questo punto è necessario trattare che dato che non si riesce a sgominare la banda bisogna evitare che questi rapimenti continuino a salvare la vita ovviamente agli ostaggi il governo fin dall'inizio invece cerca di guadagnare tempo cerca di continuare ad ottenere delle prove e del fatto che il politico sia ancora vivo e ad un certo punto convinto che in qualche modo i rapitori riescono a comunicare direttamente con il carcero quantomeno per ridurre nel circolo di informazioni per i detenuti decide di isolarli di nuovo completamente ponendo ognuno di loro in una cella separata e addirittura chiudendo isolando le celle con dei lenzuoli ricoperti di gomma a piuma di modo che non possano passare informazioni in realtà le informazioni passavano lo stesso perché i detenuti si erano creati delle specie di piccole radio con cui non solo riuscivano a ottenere informazioni dall'esterno ma addirittura riuscivano a comunicare fra di loro molto probabilmente grazie a del materiale che era stato loro portato in prigione dai loro stessi avvocati a complicare ulteriormente le cose ci si mette un dirottamento il 13 ottobre 1977 un piccolo commando di quattro persone probabilmente legate all'OLP il fronte di liberazione della Palestina infatti prende in ostaggio un intero aereo partito da Palma di Mallorca diretto a Francoforte i quattro uomini dopo aver piazzato delle bombe sull'aereo lo dirottano gli fanno fare una breve sosta in Italia per rifornirsi e poi puntano sul Golfo Persico le richieste anche in questo caso non sono molto dissimili anche loro chiedono come la RAF la liberazione dei prigionieri in Germania e aggiungono la richiesta di liberare alcuni prigionieri palestinesi che erano detenuti invece nelle carceri turche a questo punto il governo tedesco è in fortissima difficoltà e a peggiorare le cose giungono anche delle pressioni dall'interno della prigione dove alcuni dei prigionieri annunciano che se non saranno al più presto rilasciati preferiranno piuttosto suicidarsi che rimanere ancora una volta in carcere il 15 di settembre intanto il figlio di Schleyer riceve una nuova richiesta per avere del denaro da parte dei rapitori e cerca di farglielo avere ma il governo venuto a sapere della cosa fa saltare l'accordo comunicando il luogo in cui sarebbe dovuto avvenire lo scambio ai giornalisti e facendo così accorrere molti giornalisti sul posto facendo saltare ogni possibilità di accordo l'aereo intanto riparte dal Golfo Persico e raggiunge questa volta Mogadiscio in Somalia c'è già stata una vittima peraltro il capitano che aveva tentato di comunicare con l'esterno aveva cercato di far sapere quanti fossero i rapitori per agevolare un eventuale attacco che era stato scoperto ed era stato proprio eliminato dal capo del commando a questo punto la Germania dice ai rapitori di essere pronta a trattare fa sapere di aver bisogno di tempo di alcune ore di aver già liberato i terroristi della RAF di averli caricati su un aereo e di essere intenzionata a portarli fino a Mogadiscio a questo punto gli attentatori decidono di prolungare il tempo loro concesso e poche ore dopo un aereo delle forze armate tedesche atterra proprio a Mogadiscio vicino a quello che era stato dirottato a bordo dell'aereo però non vi erano i membri della RAF ma vi erano un gruppo di teste di cuoio tedesche che sfruttando il caos seguente all'atterraggio riescono ad entrare all'interno dell'aereo eliminano tre dei quattro dirottatori l'ultimo rimane gravemente ferito e riescono a salvare tutti i passeggeri la notizia viene diffusa nella notte anche in Germania e appena riescono ad apprenderla all'interno del carcere alcuni dei prigionieri mettono in atto quello che avevano minacciato tra questi Andreas Bader che si suicida con un colpo di pistola Gudrun Hensling che viene trovata invece impiccata e Irngard Möller che invece tenta di uccidersi pugnalandosi più volte anche in questo caso ci sono dei dubbi su come queste cose stiano andate sono state fatte varie inchieste a tal proposito la maggior parte delle inchieste hanno confermato che in effetti è assolutamente accettabile l'ipotesi del suicidio avevano il materiale per poterlo fare avevano ricevuto le pistole peraltro proprio dai loro avvocati che erano riusciti a farli passare attraverso i controlli avevano saputo della fine del tentativo dei dirottatori quindi insomma avevano il movente e avevano il modo per eliminarsi chi invece ritiene che anche in questo caso si tratti di omicidi quantomeno scuri fa notare come la Möller abbia affermato quando si riprese perché è l'unica dei tentati suicida di essere sopravvissuta nonostante le ferite affermò di non ricordare nulla di essersi semplicemente essere stata aggredita e di essersi svegliata già in infermeria dall'altra parte alcune analisi fatte sul corpo di Andrea Sbader riportarono che in effetti vi erano segni di un colpo di pistola alla tempia ma non vi erano segni sulle mani che quel colpo fosse partito dalle sue mani ripeto sono però delle analisi che sono state smentite ve le lascio perché le trovate oggettivamente entrambe e ancora oggi proprio una certezza assoluta al 100% di come le cose siano andate avrete notato quanto questa storia sia oscura come siano andate oggettivamente non ci sono ma diciamo che in questo caso andando a leggere tutto il vario materiale si riesce a vedere che di dubbi ce ne sono quantomeno un po' meno ma ancora presenti il risultato della morte dei dirigenti della RAF fu che a morire fu anche Hans Martin Schleyer che fu giustiziato il giorno successivo e il cui corpo sarà trovato in un'auto anche qui un'analogia con il caso Moro di lì a poche ore dopo un annuncio proprio dei rapitori nonostante questa tragica fine dei dirigenti in realtà la RAF però non smise con i suoi attacchi negli anni 80 gli attacchi continuarono ad intervallarsi praticamente quasi uno ogni due anni se non di più si trattava di attentati attentati di damitardi come quello fatto contro la base statunitense di Francoforte che portò a parecchi morti si trattava anche di attacchi contro singoli esponenti politici sia della sede U da una parte che addirittura del partito socialdemocratico evidentemente accusato di essere troppo leggero nei confronti del governo o degli esponenti della parte avversa vi furono attacchi contro esponenti delle banche come ad esempio quello contro il CEO di Deutsche Bank la cui macchina passando vicino una bicicletta venne travolta da un'esplosione che lo portò a morte a causa di un frammento che gli si piantò nella coscia e lo fece morire dissanguato vi furono attacchi anche contro industriali talvolta con tentati rapimenti altre volte che vennero semplicemente giustiziati con la caduta del muro di Berlino le attività della RAF non cesseranno nel 1991 1992 ci saranno ancora attacchi questo nonostante a tutti gli effetti quelli che potevano essere gli obiettivi politici erano ormai decaduti perché non esisteva più una repubblica democratica tedesca le due germanie si erano riunificate la guerra fredda era finita non esisteva più l'unione sovietica insomma era difficile trovare degli scopi politici a questi attacchi tanto che alcuni iniziarono a definire la RAF in realtà un movimento che mirava solamente più alla liberazione degli ultimi prigionieri ancora in carcere per questo nel 1993 il nuovo governo della Germania unificata decise di procedere a molte scarcerazioni andando a liberare quei prigionieri che avevano tenuto una buona condotta in carcere che avevano accettato di seguire un percorso un percorso psicologico e in questo modo facendo abbassare la tensione proprio nel 1993 ci fu l'ultimo attacco della RAF che da lì in poi non avrà altri non porterà altri attacchi contro lo stato tedesco nel 1998 sarà recapitato alla stampa una lettera un documento che annunciava sostanzialmente lo scioglimento del movimento e la fine dei suoi tentativi di aversione erano passati tanti anni siamo andati molto oltre la fine degli anni di piombo in Germania in Italia chiedo scusa la Germania ci ha messo molto più tempo di noi ma in qualche modo era riuscita anche a lei ad uscire dall'incubo del terrorismo politico pensate che l'ultimo attacco tra il 26 e il 27 marzo del 1993 non era stato in realtà un attacco contro le persone ma contro un edificio un nuovissimo carcere che era stato da poco completato entro il quale vi erano ancora solamente delle guardie non erano ancora stati portati dei detenuti che sarà attaccato da un commando di 5 o 6 persone che entrarono in realtà semplicemente usando delle scale metalliche evidentemente il carcere era stato preparato per evitare che qualcuno potesse uscire non che qualcuno potesse entrare sopraffarono le guardie le caricarono su un camioncino lo portarono a distanza di sicurezza e poi piazzarono delle cariche di demolizione distruggendo buona parte del carcere stesso insomma o quantomeno gravemente danneggiandolo se non altro nella loro ultima azione non vi furono morti rimane ovviamente per la Germania così come per noi una storia che è difficile da raccontare difficile da raccontare perché prevede di raccontare tutto un periodo che oggi politicamente appare molto lontano che per tutti coloro che sono nati anche solo a metà degli anni 80 come me in qualche modo non è mai stato realmente vissuto e questo forse rende a volte difficile capire pienamente che cosa avvenne in quegli anni esattamente come da noi sono poi anni che quando sono stati raccontati hanno spesso scatenato delle polemiche non molti anni fa è stata prodotta una serie tv dedicata in Germania proprio alla RAF che è stata fortemente condannata perché sembrava presentare i terroristi come dei giovani bellissimi affascinanti che cercavano semplicemente di creare un mondo migliore in qualche modo dimenticandosi che in questo loro tentativo sulla cui parte politica non mi esprimo ognuno è libero di pensarla come vuole ma in questo loro tentativo avevano provocato molti morti anche tra persone e comuni ad ogni modo io mi fermo qua ringrazio ancora tantissimo Stefano Bionzi per tutto il materiale che mi ha mandato che mi ha permesso di completare questa piccola miniserie ammetto che io per primo avevo conoscenze molto limitate di questo movimento ed è un peccato perché avrete capito veramente quanti siano le assonanze con le Brigate Rosse e questo dovrebbe anche ricordarci quando parliamo di Brigate Rosse di estendere un po' il discorso anche fuori dall'Italia oltre che non limitarci solo al terrorismo politico italiano ma insomma direi che in questo modo forse per chi come me ne sapeva meno siamo riusciti ad aprire una piccola finestra per il resto come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon chi fa donazioni sul conto Paypal siete tanti veramente vi ringrazio tantissimo perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e soprattutto riusciamo a produrre più materiale a disposizione di tutti in particolare oggi vorrei ringraziare Gianluca De Mastro grazie mille veramente tantissimo per il tuo aiuto per il resto vi do un annuncio vi dico già che non la prossima settimana ma tra due settimane se tutto va bene inizieremo una nuova serie che ci accompagnerà per qualche settimana e andremo a chiudere le nostre miniserie dedicate al Caucaso raccontando la storia dell'Armenia grossomodo dalla prima guerra mondiale fino ai giorni nostri comprese le guerre in Nagorno-Karabagli scontri con l'Azerbaijan ovviamente e purtroppo inizieremo praticamente da lì dal genocidio armeno e chiuderemo appunto in questo modo la storia dei paesi che si affacciano sul Caucaso e poi e beh poi lo scoprirete più avanti con quale sarà la nostra serie estiva per il resto quindi se vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia a presto ciao 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 ciao